Immobile furioso con Sarri dopo il pugni e urla in panchina. Roma inconsueta reazione di Ciro Immobile nel corso del match Lazio-Sassuolo, il bomber e capitano bianco-celeste. Richiamato in panchina da Sarri a metà ripresa per l'ormai consueta staffetta con Pedro. Ha abbandonato il campo con aria sconsolata, ma poi ha sfogato tutta la sua rabbia e frustrazione. Immobile, prima si lascia andare ad una serie di improperi, poi addirittura sbatte i pugni sul plexiglass della panchina, uno sfogo dovuto alla voglia di recuperare il tempo perduto a causa di una stagione costellata di infortuni e acquito dall'ossessione del gol. Che colpisce tutti i bomber, figuriamoci Ciro che per il gol vive ad aumentare il nervosismo. Probabilmente, anche il controverso episodio del gol annullato, convalidato e nuovamente annullato, con il quale Immobile aveva sbloccato il match. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.